E ragazzi siamo qui nel video dei regali allora però io ho appena aperto il live counter ed eravamo a 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904 ma raga però se fate così è bello e facile e per quello che io non voglio secondi account o perlomeno se volete fare secondi account perlomeno rimanete iscritti